Una lettera di scuse indirizzata al capo della squadra mobile di Arezzo, Giovanni Schettino. L'ha scritta una giovane prostituta di 21 anni che durante una perquisizione che poi portò all'arresto del suo compagno si scagliò proprio contro il capo della mobile. La giovane perse letteralmente il controllo quando vide le manette ai polsi del suo amante sfruttatore e si rivolse a Schettino prima con sputi ed insulti e poi lo morse ad una mano. L'episodio avvenuto l'11 aprile scorso è stato rievocato in tribunale ad Arezzo. La perquisizione, in questo caso in un appartamento di vice-ommaggio, rientrava nell'ambito di una complessa e articolata operazione della polizia che portò a 11 arresti per l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Durante il processo la giovane assistita dall'avvocato Andrea Santini è stata condannata a sei mesi con sospensione della pena. Le sono state quindi tolte le misure cautelari.